Ho chiesto ai miei amici di fare da babysitter a mio figlio e loro lo stanno facendo divertire Il fatto è che lui è veramente una peste e di conseguenza devono stare molto attenti a lui Anche perché specialmente se lo metteranno in punizione devono stare comunque attenti Perché potrebbe fare qualsiasi cosa Come creare il diamante TNT? Riuscirà mio figlio a non farsi amici strani? Papà! Papà voglio uscire! Papà! Ok, ok figliolo eccomi! Papà voglio uscire! Siamo... Sì! Evviva! Allora! Vieni, vieni! Voglio! Vieni fuori! Andiamo a fare! Vieni fuori! Vieni a divertirti nella natura! Evviva sì! Mi raccomando non entrare nelle case degli altri però Oh, per forza! Io devo entrare nelle case degli altri papà! Ma ricorda Baby's Breezer Non si entra nelle case degli altri senza il loro permesso Ah, ok! Allora... Ma ciò che ci facci papà? Guarda! Questo è solo, posso andare giusto? Eh, no, no! No! Cosa ho qua dentro? Eh, no! Eh, no, no! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Papà, vedi che non c'è nessuno! Ma io voglio entrare nelle case degli altri papà! Eh, no! Non vuoi entrare nelle case degli altri! Perché c'è Senso lì sopra? Non ne ho idea! Senso non portarti! Senso non portarti! Senso non portarti! Senso non portarti nella camera! Cosa urli bambino? Sto sfacendo il sistema di sicurezza per la mia casa! Eh, quella è la casa di Violet! Cosa? Sì! È la casa di Violet! Oh mio Dio! Eh... L'ho smesso casa! Oh! Papà, vedi che c'è? Vedi qua dentro! Papà, posso vedere? Questa è la casa di Senso, vero? Questa quaccella! Sì, ma il Senso non è in casa, quindi non puoi entrare dentro casa sua! Che bella casa sua! Questa piccola! Ok, ora... Padre! Padre, ladre! Soltino ladre! Non sei un ladro! No! Da vederci! Ora basta, baby's breezer! Mi sono stancato! Ora andremo dal maialino cattivo! No! E lo andiamo a uccidere! Ti sentite un casino? Oh! Senza, posso allarmi? Oh, sì, scusa! Io non voglio andare dal maialino cattivo! I bambini cattivi vanno dal maialino! Andate via! Eh! Papà, ma perché sei sempre così? Io volevo solo divertirmi nelle case degli altri! Non puoi entrare nelle case degli altri! E invece sì che posso entrare nelle case! Entrare maialino cattivo! Eh! Oh, ma che carino questo papì! Questo maialino cattivo! Buona giornata! Aspetta! Rifletti sulle tue azioni! Aspetta, cosa? Papà! Ciao, maialino cattivo! Come ti chiami tu? Ma, ma esisti che il maialino... Ascolta che tu sei riva sto qua perché sei cattivo! Sì! A me dispiace pure perché pure io sono un bambino cattivo! Questa cacca è tutta tua! Che schifo! Vabbè, comunque ascolta, hai detto che sono un umano e il mio papà è molto stupido e non pensava mica che potessi uscire dalla gabbia! Adesso tu esci insieme a me! Così gli facciamo vedere quello che possiamo fare! Allora, maialino, che cosa hai in mente? Cosa potremmo fare per un attimo fare degli scherzetti a questi adulti cattivi? Dimmi qualcosa, maialino, ti prego! Che cosa? Dov'andare avanti? Dove stiamo andando? Ma mi devi dare una mano! Cosa dovrei fare? Vabbè, maialino cattivo! Che c'è? Cosa accade? Ma che progetti mi hai? Vabbè, fai come vuoi, maialino cattivo ti è liberato! Che ci fai lì? Ti ho visto picchiare quel maiale! Ma non ho picchiato il maiale! Ti ho visto! Ti dichiaro in arresto! Ah! Ah, dai, 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 dai! Ah, dai, dai, dai! Non è qui, la sassina di maiali! Maialino, maialino! Maialino, maialino! Maialino, maialino! Maialino, maialino, maialino! Aiuto, no! Torneremo! Maialino, ascoltemi, mi devi dare una mano perché non so che scherzi fare allora! Tu hai qualche idea? Cosa? Perché mi hai dato un diamantere TNT? Ah, tu dici che dovrei craftare qualcosa? Vediamo! Oh! Tianti, diamant! È un diamantere TNT! E come funziona? Oh, sì, 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 ho capito, ho capito, andiamo! Ho capito come funziona! Vieni, maialino! Oh, no, dobbiamo aspettare che poi le tesiari ritorni in casa! Attento, vorrei farvi vedere da papà! E lo... Ok, sono ritornati in casa! Vieni, 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 vieni! Sì, e papà lo sta guardando! Ecco, aspettiamo! Chi è? Ciao, maialino! Ciao, maialino! Ah, un bambino! Ciao! Come stai? Ah, bene, tutto ok! Tu come stai? Tutto ok! Ascolta, maialino! E come sta? Tutto bene, maialino! Cattivo, sto bene! Eh, volevo dirti una cosa, Violet! Ah, dimmi! Dato che sei molto carina con me, ti ho voluto fare un regalo, un diamante! Ah, grazie! Prego, Violet! E posso metterlo nella cesta, quindi? Sì, certo, fai pure, Violet! Ci vediamo! Ciao! Ciao, ciao! Che cosa dovrebbe accadere in questo momento? Che cos'è questo suono? Oh, mio dio! Ho funzionato! Ho funzionato! Ho sentito un'esplosione! Aiuto! Mia, scappa, 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 maialino! È colpa nostra! Mi ammazzo io! Tranquilato, Violet! Aiuto, aiuto! Ti salvo io! È colpa di là! Mi ha fatto esplodere la casa! E tu hai anche il maiale! Puro il maiale! Quel maiale è stato colpito... Dentro, dentro, dentro la fence! Dentro, dentro, dentro la fence! Dentro, dentro la fence! È stato addestrato da quel bambino! Ma, scusa! Dobbiamo uccidere sia il maiale che il bambino! Dove sono stati? Ormai... Maialino! 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 Dove li avete messi, quindi? Non lo so, sono scappati! Io, purtroppo, non li so trovare, sono di vedo! Ma, papà, quant'è che mi liberi? Ma dov'è? Dov'è? Ah... È lì! Dov'è l'ho visto? Ma è dentro la sua gabbia! Ma è impossibile che mio figlio possa uscire! Dai! Vi sarete sicuramente confuso! Ah, è impossibile! Sei sicuro? Ma io l'ho visto! L'ho picchiato! E poi ha preso la gabbia! Ci sono dei chiari segni di fuga! Ecco! E quali? Ecco, ecco! La cacca, ovviamente! Se non fossero fuggiti, la cacca sarebbe tutta dentro il recinto! Invece c'è pure fuori! Fatemi assaggiare! È fresca! È fresca! Ma che schifo! Papà, quando ne posso uscire? Mi sa che non uscirà mai tuo figlio! Dichiarati di arresto per l'attacco prossimo superiore! Questa sera! Papà, mi devi farò sfruttare fino a sera! Ma come? Io sto per dire... Per anni è dichiarato ergastolo per... Papà, anche io pensavo... Ma, mamma, tranquilli! Non tu parla dovrà far macchina! Papà, aspetterò! Non mi giuri, ci sto battendo il martello! È una tecnica di sopravvivenza dopo si mangerà il maiale così imparerà a sopravvivere nella vita! Ok, figliolo! Ci vediamo! Addio! Ciao, papà! Ciao, Sergio! Noi ti guardiamo, sappilo, eh! Ma, ma, io, io, io ti dichiaro colpevole! Aspetta, aspetta, ma lui è minorenne, quindi casa mia la ripaghi tu, Elo! Sì! Elo? Non è stato lui! È lì dentro! Ok, maialino! Allora, ascoltami! Adesso, quello che faremo è una cosa ancora più bella! Fai tantissima cacchincina! Sei pronto? Però per strada! Tre! Due! Uno! Corri, miagli! Seguimi, seguimi! Tanto fai la cacca! Bravo, bravo, vieni, 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 vieni! Cacca, poca, poca, poca! Ella, tutta qua davanti, tutta qua davanti! Tutta, 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 tutta! Bravissima, maglia,コ! Bendevo in questa parte! Cacca, caca, cacca! Che cos'è questo dorino? Vieni, gravi, gravi! Cacca, comunque! Ma che cosa successo? È piunguto cacca! Vieni, guardi! Vieni, bravi! Bravissimo, bravissima! Sì, sì! Ancora, 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 ancora! ACCO! Sì ecco, passive! hai visto la cacca sto notte che sto facendo hai fatto un'altra volta cosa ha fatto la strada a fare la cacca ma non è vero sono affacciato fuori a un certo torino e ho visto che era pieno di cacca non va più avuto chiaramente da casa tua ma non è vero da casa di non so che c'è vita qua allora io non ho fatto così tanta tanta e poi la posso prendere solo col piccone io non faccio la cacca così dura ok ma il menio condotto la risolta la faccio molle ti prego di pulisci questo casino io me ne vado in casa bravissimo l'aglialino sei un grande e adesso tocca a me questo sembra succo di blaze ma in realtà è un succo di pipì sei pronto vieni ho riempito tutto pieno ceppo di pipì adesso facciamo uno scherzo a sense che cavolo sicuro c'è sto schifo aspetta maialino aspetta bravo devo comprarmi qualcosa di pulire che è stato che è stato si è fatto si è più da fatto stanotte la mia stagione no è pipì è mia pipì è la mia pipì che cosa è questo rumore tuo figlio che non ti assomiglia neanche mi ha pisciato in faccia mi guarda scappando con quel maiale non vedo niente io era sopra il mio tetto e mi ha buttato la piscia in faccia e l'ho scambiata per fanta l'ho bevuta e io non la dovevo e te l'avevo e te l'avevo fatto che schifo non posso fare un passo che schiaccia la cacca ma io ero qua lì dentro io sono qua dentro vattenvi uscire ma come è possibile non mi ha fatto a farti la pipì in testa se è lì dentro ma io l'ho visto era sopra e mi ha anche detto che non fosse fatta e mi ha detto quella è pipì io ho detto ah davvero io poi sono andato a vomitare era lui era quello più biondo dobbiamo fare qualcosa devi chiudertelo in casa si si lo sparati così o lo sopprimiamo o lo chiudi in casa uno dei due aiuta no allora facciolo il maiale che è quello più brutto maialino cattivo non lo prenderei mai maialino ahah l'ha messo maialino cattivo ha messo è di copies no ha detto che è coglio la te mom fa 서 no Grazie a tutti